Ce la puoi descrivere un attimo? Sì Un po' poco perché non è che sono Un telaista fa delle bici da strada, è la prima che fa l'immortizzata Ah, Belin È tutta, l'ha fatta tutta Di qua, di più peligro, è fante, sì Conosci? Mi ha saldato due volte il telaio E questa qua è la prima che fa l'immortizzata? Ma sai che l'ho visto mentre la stava qui? No, con il... Con il... Cosa che l'aveva ripreso da... Cos'era, aspetta la... Ah, ma quello di Santa Cruz Ah, sì, 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 come cosa? Sì, ce l'avevo visto L'anno fa e ce l'ho chiesto Sì È un sistema che... Però Non l'ho provato, è ancora Volevo provarlo oggi E da quello che dice lui Ovviamente non ammortizza mentre pedale Ah, ecco Ah, giusto Senza il blocco non dovrebbe ammortizzare Dovrebbe essere più efficiente, quindi C'è più trazione Ciao, ciao, Mark Ciao Ma no, c'è quello lì da Rocca dell'Area Rocca dell'Area L'unica cosa che deve ancora un po' apportare delle modifiche Se vede la prima è il carro un po' troppo vicino alla ruota Non dirò un po' la piazza per... Non era un... Vedi la Santa Cruz Cioè, non è che sei più... No, no, ma è... Non è uguale come... È simile come sistema ma non è proprio... Ha fatto una cosa un po' più... È montata un po' così Sì, ho visto È montata un po' la buona Il freno a cavetto È... Il montaggio era un po' Il più è il telario Il solo telario È la tua, la mia, la mia, la mia È la tua, la mia, la mia, la mia... Grazie.